Il 2019 non è lontanissimo, è l'anno per il quale Matera si è candidata a ricoprire il ruolo di capitale europea della cultura. Allora andiamo subito in diretta a Matera per fare il punto con Luigi Di Lauro sui passi che la città sta facendo verso il 2019. Luigi? Siamo a uno dei momenti clou di questo passaggio verso il 2019 perché entro il prossimo 30 settembre dovrà essere presentato il dossier di candidatura. Matera insieme ad altre città italiane è candidata a rivestire il ruolo di capitale europea della cultura per il 2019. Con noi abbiamo degli ospiti proprio per parlare di questo dossier e di quanto si sta decidendo per il futuro. Rossella Tarantino, intanto ieri è un'importante riunione del Consiglio d'amministrazione. Sì, è un'importante riunione in cui si dovrà decidere il budget, il piano di lavoro del prossimo anno che sono determinanti appunto perché verrà tra un mese a scelbando e dentro settembre bisogna presentare il dossier. C'è stato un CDA molto importante con risultati significativi e con un forte impegno ribadito dalla regione Basilicata nella persona del Presidente De Filippo il quale ha stanziato appunto, riconoscendo l'importanza, il valore regionale di questo progetto e anche gli ottimi risultati che diciamo in termini di posizionamento competitivo nei confronti delle altre città candidate si è raggiunto ad oggi, ha deciso appunto di investire più di un milione di euro soltanto per il 2013 appunto sulle attività che il Comitato ora metterà in piedi. Quindi insieme al Presidente De Filippo c'è stato appunto ovviamente il forte impegno del Comune di Matera e contestualmente anche si è ribadito l'impegno di tutte le istituzioni che compongono il Comitato sia in termini diciamo di finanziamento che in termini di compartecipazione alle progettualità. Insomma un cammino che sembra in discesa per Matera che sarebbe, Avvocato De Ruggeri, tra le altre cose la prima città del Sud Europa a rivestire questo ruolo di capitale europea della cultura con un dossier che deve necessariamente però parlare oltre che di eventi anche di infrastrutture. Certamente, io vorrei dire che questa è un'occasione irripetibile, è una occasione che deve essere sfruttata perché da questa iniziativa deve nascere un processo di trasformazione che punta a due risultati. Innanzitutto costruire il ruolo del territorio lucano rispetto all'Europa. Secondo, il problema di fondo è quello di creare le condizioni di un processo di trasformazione e quindi di crescita e di sviluppo. In questo contesto è chiaro che la mobilità ha un suo ruolo particolare, una sua esigenza particolare, soprattutto per una città come Matera che non è favorita e che non è servita dalle ferrovie. Quindi è un momento anche per rivedere e di rompere questo isolamento. L'occasione, come dicevo, è propizia. È necessario però che la città si possa essere interamente coinvolta in questo processo, che siano sconfitti i pessimismi e gli scetticismi, perché la città e i cittadini lucani devono capire che questa è un'occasione per costruire il potere di attrazione di questo territorio. Bene, noi ovviamente seguiremo i lavori del Comitato Matera 2019, lunedì in programma la riunione del Comitato Scientifico e nella prossima settimana vi riferiremo anche dei risultati di questa riunione. Tutto da Matera, buon pomeriggio. Grazie.